Artein è in edicola per abbonarti visita il nostro sito www.artein.it oppure manda un'email all'indirizzo abbonamenti chiocciola artein.it Artein l'arte come non ve l'hanno mai raccontata Cari amici va ora in onda proposte di investimento a cura di Francesco Boni che vi consiglierà le opere d'arte più preziose sia per le vostre collezioni che per i vostri investimenti in arte. Buona visione! Grazie a tutti Carissimi amici buona giornata Buona giornata e benvenuti Federico sai che cosa ho notato? Che i nostri amici non hanno apprezzato la nostra politica Per noi in maniera assolutamente rigorosa abbiamo Ci siamo schierati dalla parte dei compratori Invece che schierarci dalla parte dei venditori come fanno tutti Ci siamo schierati dalla parte vostra e che cosa abbiamo deciso di fare nelle ultime trasmissioni Oddio questa è una linea che conduciamo da sempre ma nelle ultime trasmissioni in maniera più esplicita in maniera più Violenta Sul mercato stanno accadendo degli eventi finalmente straordinari Cioè il mercato si sta rendendo conto di quello che io dico da vent'anni Che tutto il sistema è indirizzato a farvi spendere del denaro inutile A farvi spendere del denaro su opere che è assolutamente inutile comprare Perché tanto tra 5 anni, tra 10 anni, quando finirà l'influenza degli archivi imperanti oggi E verranno sostituiti da altri archivi Vi accorgerete di aver comprato una montagna di quadri Che credevate di fare un ottimo investimento Che avete pagato meno di quello secondo il mercato Meno di quello che erano i prezzi veri di quegli artisti Ma non vi siete accorti che vi hanno rifilato delle opere che costeranno zero Che letteralmente costeranno zero Io come Gabriele, come tutti noi da anni Facciamo una politica completamente diversa Vi diciamo le verità, quelle che il mercato vi tiene rigorosamente nascoste E vi diciamo che o comprate le opere di qualità assoluta Quelle indiscutibili, quelle assolutamente autografe Autografe Perché autenticate sono tutte Quelle autografe e quelle di bottega Questo è un concetto che non vi entra nella capoccia Manco a ficcarvela proprio abbastonate E non avete ancora capito Che il concetto di autentica sulle opere non autografe Farà sì che l'investimento che fate oggi si ridurrà a zero 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 Voi lasciate ai vostri figli zero Voi investite per il vostro futuro ciò che diventerà zero Non ve lo volete mettere in testa O comprate le opere indiscutibili di altissima qualità O le opere di artisti viventi Ma che devono avere la stessa caratteristica Perché poi tutti noi viventi diventeremo passato Diventeremo ricordo E naturalmente quello che avviene oggi su artisti scomparsi Potrà accadere su artisti oggi viventi Quindi il segreto è comprare la qualità assoluta Ora cosa sta succedendo? Che questo verbo sul quale io insisto da anni Quello della qualità assoluta Quella dell'opera eccezionale Quella dell'opera superiore Sta diventando un pochino un ricettacolo di mercato Cioè i grandi galleristi vi danno le opere di grande qualità Però ve le fanno pagare E c'è una differenza di prezzo Evidente tra le opere di alta qualità E le opere cosiddette dozzinali Quindi il nome, la dimensione Contano relativamente Conta solamente la qualità La rappresentatività dell'opera E noi in questi giorni Abbiamo cercato di darvi delle opere Di sicuro investimento Vi abbiamo presentato le opere di Schifano Autografe Che oggi il mondo vuole E che comprano in tutto il mondo Schifano È un punto di riferimento internazionale Nelle opere autografe Non basta l'autentica L'autentica ci deve essere per legge Ma le opere devono essere rigorosamente autografe Cosa che gli archivi negano Ed è una follia Una follia della contemporaneità Quando nel mondo si sa perfettamente Prendi Andy Warhol Che ci sono opere da 10 milioni di dollari Perché autografe E opere autentiche Che io vi posso vendere Come tutto il mercato del mondo Vi può vendere A 1000 euro A 2000 euro Quindi Quello che nel mondo si fa Dà sempre La chiarezza Sulle opere Da noi si tiene Rigorosamente nascosto A uso e consumo Di una categoria di persone Voi non ve lo volete mettere in testa E diventate vittime Inconsapevoli Di un sistema Che vi ruba il denaro Volete vedere gli schifano autografi Eccolo qua Eccolo qua Volete vedere gli schifano veri Quelli pensati e fatti da lui Non pensati da lui E realizzati da un suo collaboratore Eccolo qua Costa Poco di più Di quelli Di atelier Però voi Pensando di risparmiare Dato che hanno gli stessi documenti Vi comprate quello di atelier E commettete Un errore Epocale E lo denuncio pubblicamente Un errore Epocale Opera Non importante Straordinaria Di Mario Schifano L'apparizione Del vero Nel dogma Della cultura Programmata Nel dogma Della cultura Di massa La luce Sulla verità Della natura Nell'ambito Della Dell'accoglimento E della Constatazione Della Omologazione Culturale Di massa Opera Fondamentale Di Mario Schifano Sono le opere Da brivido Sono le opere In cui vedi L'idea E la mano Straordinaria Di quell'artista Inimitabile Inimitabile Opera Grandiosa E poi Come In tutti i quadri Veri Di Mario Schifano Quelli fatti Da lui C'è Un intervento A smalto Che fa il craclé E qualcuno Di voi Dice Ma a me il craclé Non mi piace E allora Non mi piace Caravaggio Allora non mi piace Caffaello E allora Non mi piace Nessun quadro antico Perché La pittura Vera Fa il craclé Non so se sono veri i quadri senza craclé Come? I quadri senza craclé Non sono veri I quadri senza craclé Sono quasi sempre di atelier I quadri senza craclé Sono al 99,8% Ti do lo 0,2% Di possibilità Eseguiti dai collaboratori Ma lo vedi? Ma poi il craclé viene sugli smalti Non viene su tutti i colori Opera straordinaria Opera clamorosa E poi io devo sentire pure questa fesseria del craclé Da parte di qualcuno Che uno gli dice Dai È come il medico che non sa riconoscere l'influenza Che non sa distinguere È un'influenza dalla polmonite E allora è grave È grave È veramente grave dal punto di vista professionale Quindi ci tengo a dirvi queste cose Perché ci tengo che il vostro denaro Venga impiegato in maniera fruttifera Per voi e per la vostra famiglia Questa è un'opera clamorosa È chiaro che trovate le opere di atelier A 5 mila euro di meno A 10 mila euro di meno Ma perché buttare via i soldi? Ma perché comprare opere Che già oggi valgono zero A livello internazionale Le paghiamo solo noi italiani Sapete perché le paghiamo solo noi italiani? Perché noi non guardiamo più Come il mercato ci ha insegnato La qualità dell'opera La grafia dell'opera Noi guardiamo il certificato di autentica E il certificato di autentica è uguale Per un'opera di atelier E per un'opera autografa Solo che quella di atelier Costerà così Zero 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 E quell'autografa sarà l'opera poi Ipervenduta A livello Intelligente in Italia E a livello internazionale Che vogliono solo quello A cifre Importantissime Perché vi volete negare la verità Ecco io vorrei che questo mio spogo Rispondeste Vorrei sentire le vostre telefonate Che dicono Ma anche di persone altolocate Di persone che dicono di sapere Che dicono guarda che stai dicendo una bestialità Che dicono guarda che stai dicendo una non verità Che ti dicano guarda che stai dicendo Stai dando delle informazioni sbagliate Perché non rispondete? Perché? Perché vi dico la verità E chi lo sa Sa che non ci sono argomenti seri Veri Per controbattere a quello che sto dicendo Gli storici dell'arte Veri I critici veri Quelli che frequento quotidianamente Queste cose le sanno da Anni e anni e anni e anni Solo che il sistema è talmente forte Il sistema dell'informazione di massa è talmente forte Che per scalfirlo Uh quanto ce ne vuole Uh quanto ce ne vuole I giri di denaro Che permettono utili miliardari Eh quanto ci vuole A scalpirli A denunciarli E quello che sta accadendo nel mondo In un ampio In un raggio molto più ampio Eh di materie Di cose Cioè da Conforto Eh a quello che sto dicendo Amici Non cadete nell'errore Opera strepitosa Opera eccezionale Oh poi qualcuno Eh Aveva intelligentemente Approfittato dell'opportunità Eh di acquisire Eh uno dei dieci quadri più importanti Che Tano Festa Aveva fatto nella sua vita Eh poi Non so chi gli ha detto qualcosa Eh Questo è un cartoncino Su tela Eh È un cartoncino che viene Che è stato rintelato Riportato Eh su tela Non so gli hanno detto Carta telata E non gli è piaciuto Non lo so che cosa Eh gli è successo Ma questo È uno dei dieci quadri Più importanti Della storia di un genio Eh che si chiamava Tano Festa Ma è conosciuto da tutti Viene dalla mitica collezione Franchetti È un'opera del 1962 È la matrice Eh sia gestuale Pittorica Eh sia materica Eh di quelle che diventeranno Le vie Veneto di Tano Festa Un'opera Eh molto simile a questa Ha un record price Di 70-80 mila euro Eh di sette anni fa Cinque anni fa Di anni fa Eh quindi Eh io vi sto dando L'opportunità Di acquisire Un pezzo Da grande museo Un pezzo Di storia assoluta Di un genio Eh come Tano Festa Eh che poi Eh se lo guardate con attenzione Eh viene Eh da quegli Eh straordinari oggetti Eh gli armadi Gli specchi Eh che hanno perso La loro funzionalità Eh che diventano Eh portatori Eh di un mistero Metafisico Eh un'opera Non importante Fondamentale Per la storia Della pittura Internazionale Eh degli anni Sessanta Eh la mitica Penelope del Sessantadue Eh citata Da tutti gli studiosi Eh dell'opera Di Tano Festa Quando siete di fronte Ad un'opera del genere Eh se invece di trovarla Ad arte investimenti La trovate in una delle dieci gallerie Eh che contano nel mondo Vi chiedono Eh 120 mila euro 130 mila euro Perché già Oggi vale Quelle cifre Vi sto dando Una delle opportunità Di investimento Culturale ed economico Eh più clamoroso Da quando esistono Eh le trasmissioni televisive Di opere d'arte E avete La possibilità Di acquisire Un'opera Fondamentale Non solo Nella storia Di Tano Festa Eh ma Nella storia Della cultura Degli anni 60 Ad una cifra Ancora Umana Ad una cifra Ancora Possibile Eh per il piccolo Borghese Eh per il piccolo Collezionista Poi Questa opera La troverete Ai top price Eh internazionali Eh come Io ve lo dico subito Eh quali sono le opere Che troverete Ai top price Internazionali Questa Di Tano Questa Di Schifano Questa Di Schifano Opera Non importante Preziosa E guarda Che gioiello Ti ho trovato Gabriele Unico Dittico Eh legato Eh al paradiso terrestre Eh legata Legato al peccato originale Eh legato Alla rappresentazione Di Eva Eh con L'albero Eh del peccato originale Eh tutto Nasce Da qui Eh tutto Nasce Da qui Quanto vale Eh un'opera Di Tano Festa Del genere Eh del 1976 Eh un Dittico Storico Eh introvabile Pazzesco Eh vero Di Tano Festa Eh vedete le opere Che restano Nella storia Eh vedete le opere Eh che Eh ho la gioia Di farvi Comprare Eh nel momento In cui Eh le potete Ancora acquisire Eh ad una cifra Umana Sono le opere Che restano Nella storia Eh sono le opere Che hanno Eh una ragione Di essere Eh in assoluto Eh sono le opere Inattaccabili Vere Storiche Eh assolute Grandiose Eh sono le opere Che eh Chi ha testa Eh sa Comprare Eh per il piacere Di possedere Eh le opere Importanti E eh Per il piacere Di eh Sapere Eh che il proprio Denaro Viene investito Eh in maniera Gratificante Amici Eh tre Iper gioielli Eh tre opere Sensazionali Eh tre opere Storiche Eh se mi chiedete Quale comprare Eh io vi dico subito Quella che è la più Speculativa Eh Eh questo Eh È Lampante Eh E se io Avessi della liquidità In questo momento Eh sono tre opere Che comprerei Eh per i miei figli Eh per la mia famiglia Eh per una collezione Museale Eh da costruire Nel tempo Tre opere Essenziali Adesso Eh voglio conoscere Le vostre critiche A queste tre opere E adesso Eh vorrei conoscere Eh le vostre impressioni Eh paragonando Queste opere Ad altre Che avete visto Eh magari Degli stessi artisti Eh magari Eh legate Agli stessi nomi Eh Vorrei fare dei paragoni Di prezzo E di qualità Eh spiegandovi Il perché Delle differenze Eh perché Perché i perché Eh sono obiettivi Non sono invenzioni Eh perché i perché Eh delle differenze Eh sono leggibili Anche ad un profano Eh non bisogna essere Eh degli studiosi Per riconoscere Eh i perché Eh ma dovete domandare Eh dovete fidarvi Eh del Di quello che credete Un professionista E che magari Ma Eh Non ha mai andato A visitare Eh un museo Eh non conosce Eh le opere Più importanti Della storia Di questi Di questi Artisti Mi Iper raccomando Voi sapete Eh che Nelle mie Trasmissioni Io prediligo Il dialogo Quindi più domande Mi fate Più sono felice Eh di rispondervi In diretta Eh però Eh ogni volta Che lancio Questo appello C'è una carenza Di domande Eh da far Paura Eh c'è una carenza Di domande Eh spaventosa Come Se parlassi Al vento Poi invece Vedo che Eh chiedete i prezzi Domandate Quindi ci siete Eh però Eh è tutto Eh Eh what's up Come si dice Adesso Eh tutto Attraverso Il computer Eh Non sento più Quella bella Telefonata Che mi dice Perché stai Dicendo Tutte queste Fesserie Io la penso Eh in maniera Completamente Diversa Per questo Per questo Questo Motivo Questo purtroppo Federico Non esiste più Non esiste più Quasi Eh c'è paura Eh del confronto Fisico Diretto Eh guardandosi Io vorrei che addirittura Apparisse la vostra Immagine Eh come appare la mia Eh sui vostri Teleschermi Eh vorrei Che in un Teleschermo Universale Eh potesse apparire La vostra Immagine E farvi parlare Come vi sto parlando Io Eh guardandoci Negli occhi Questo Eh per me sarebbe L'ideale Sarebbe l'apoteosi Però purtroppo Non accade Eh nemmeno In forma Eh più Elementare Nemmeno Eh in forma Più più semplice Legata alla semplice Eh telefonata Comunque Eh amici Il mondo È quello che La contemporaneità Ci propone Eh io ormai Dopo Quarant'anni No Quaranta no Trentasei Trentasette anni Eh di televisione Eh a certe cose Mi sono abituato Eh anche se Continuo a non Condividerle E qualcuno Dirà ma sei Capoccione Sì sono Capoccione Eh anche se Continuo a non Condividerle Anche se Continuo a Denunciarle Eh Mamma mia Eh Questo È quello Che mi viene Da dentro È quello Che mi viene Proprio Con sincerità Assoluta Eh vi ho fatto Vedere immediatamente Eh tre opere Che già sono Delle realtà Storiche Non che Diverranno Delle Eh dei punti Di riferimento Artistici Importanti In futuro Vi ho fatto vedere Tre opere Che già Oggi Sono Delle realtà Storiche Indiscutibili Tre opere Che potrebbero Tranquillamente Non essere Qui in studio Ma essere Sulle pareti Dei più Importanti Musei Italiani E internazionali E non dico Bogiate Eh Quello Che vi sto Dicendo Lo ripeto Di fronte Ai più Grandi Studiosi Agli Archivisti Perché è verità È verità Che gli archivisti Non possono negare Che gli studiosi Non possono negare Che nessuno Che conosce La materia Può negare Solo I falsi Conoscitori Quelli che perché Si ricordano a memoria Tutti i risultati D'asta Senza capire Una mazza Del perché Di quei risultati D'asta Pensano Di avere Il dogma Dell'infallibilità Dai Stupidità Totale Stupidità Assoluta Tre Opere Da sogno Lo so che Dicendo queste cose Mi conquisto Un'impopolarità Totale Un'antipatia Assoluta Da parte Di operatori Di mercato Che guardano Solamente Al piccolo Guadagno Quotidiano Oggi Posso comprare Quello Non me ne frega Niente Se è vero Se non è vero L'importante È che abbia Il documento E che lo possa Rivendere domani Guadagnando 200 euro 500 euro 5000 euro Questa è la mentalità Del compratore Di oggi Che non condivido Affatto Che è un piccolo Commerciante Che non è più Un compratore Che non è un investitore Che vede Nella Del contenuto Dell'opera Vede solamente La possibilità Di speculare Una piccola cifra Ma quelli Non sono Collezionisti Quelli sono Petit marchand Da nulla Proprio Nemmeno appassionati Appassionati Solamente Al possibile Guadagno Immediato E sono I personaggi Deleteri In questo campo Anche se sono I più numerosi Ma sono Deleteri In questo campo Perché poi Cercano di dare Un'informazione Al pubblico Sbagliata Danno Un'informazione Al pubblico Completamente Sbagliata Tre opere Storiche Tre opere Assolute Poi Poi Guardando Queste tre opere Io guardo A quello che è avvenuto Ormai anni fa A quello che è avvenuto Nel passato Poi Bisogna Guardare La contemporaneità Nella contemporaneità Ci sono sempre Degli artisti Geniali Non è vero Che la genialità Appartiene Solamente Alla storia Anche Nella contemporaneità Ci sono degli artisti Assolutamente Geniali E bisogna Saperli Individuare E non è facile Quanti dipingono Nella contemporaneità Mai ci sono stati Tanti pittori Nella Nella storia Quanti ce ne sono Oggi Oggi Chiunque Anche in maniera Dilettantesca Approssimativa Sente la necessità Di dipingere Di raccontare Eccetera Si sente Un artista No Al massimo Sei un pittore Un artista E' colui Che Inventa Ciò che non è mai Stato fatto Prima di lui Ma oggi Chiamiamo Quella che un tempo Si chiamava Ballerina di fila Dava Spettacolo Oggi E' un artista Televisiva Quindi Oggi Anche la terminologia E' cambiata No? Ma E' un po' In tutte le professioni Quello che chiamavamo Netturbino Che in realtà Poi Da bambini Chiamavamo Lo spazzino Oggi E' un operatore Ecologico E' diversa La terminologia E' molto Più raffinata E' molto Più raffinata Ma la sostanza Non cambia Amici Nella contemporaneità Ci sono degli artisti Assolutamente Geniali Maria Non ti sento parlare Per gli schifano Per schifano E per le due opere di festa Sì ma deve essere già tutto Prenotato Sì ma deve essere già tutto prenotato Sia lo schifano Ormai Quasi 40 anni fa Quasi 40 anni fa Ve lo giuro Su quanto di più caro Nella vita Questa è l'opera Più importante Di Tano Festa Che vi abbia Mai presentato Dal punto di vista Storico Dal punto di vista Culturale Dal punto di vista Economico In tutta la mia vita Televisiva Non ho mai avuto L'opportunità Di proporvi Un'opera Di Tano Festa Così Storicamente Importante Detto questo Credo che non devo Aggiungere nulla Credo che non devo Aggiungere nulla Opera Fantastica Letteralmente Fantastica Ma parlavamo Della contemporaneità Parlavamo Della contemporaneità E nella contemporaneità Ci sono degli artisti Assolutamente Geniali Ieri Ho avuto La possibilità Di proporvi Una delle opere Un Eden Blue Di Lo Giudice Assolutamente Straordinario E' un artista Che già ha avuto Il vostro consenso Perché L'abbiamo cominciato A presentare Un paio d'anni fa E in questi due anni Non abbiamo mai avuto La possibilità Di presentarvi Dieci opere Di Lo Giudice Perché non Non le metti insieme Non le metti insieme Però nel tempo Nei due anni Abbiamo cercato Di presentarvi Delle opere Importanti Di Lo Giudice E devo dire Che le avete comprate Tutte Devo dire Che le avete comprate Tutte Disponibile Ne abbiamo Una sola Delle sculture Non ce n'è nessuna Degli oli Dei dipinti Ce n'è disponibile Uno solo Un Eden Blue 100 Che vi ho presentato Per la prima volta Ieri Quindi Non è nemmeno Stato presentato Chissà quante volte Quindi Ma perché Vi parlo Di Lo Giudice Perché è uno Di quegli artisti Che già ha conquistato Un mercato internazionale E gli artisti Che Fanno il grande salto Dal mercato italiano Al mercato internazionale Sono quelli che vi danno Un immediato guadagno Sono quelli che cambiano Quotazione In vita Come è successo Con Bonalumi Come è successo Con Isgro Come è successo Con Boetti Come è successo Con Algardi Come è successo Con Lo Giudice Tutte cose Che già avete Verificato Proprio In maniera Obiettiva No? Che non sono chiacchiere Sono fatti Io oggi Ho la fortuna Di proporvi Un artista Pazzesco Un artista Della nuova Figurazione Sessantenne Ma uno di quegli artisti italiani Che come Cattelan Che come il grande scultore Pomodoro Guardaldo Pomodoro Entrano di prepotenza Sul mercato internazionale Entrano in maniera Veemente Dirompente Sul mercato internazionale E gli artisti che riescono A superare il confine Con le loro opere Del mercato italiano Inevitabilmente Crescono di prezzo A livello importante Qualcuno mi dirà Perché? Ve lo spiego Immediatamente Perché In Italia Abbiamo Come abbiamo La maggior parte Del patrimonio Culturale Internazionale In Italia Abbiamo Rispetto al numero Di abitanti Dell'Italia Un numero Di collezionisti D'arte Enorme In percentuale Noi italiani Rispetto al totale Della popolazione Abbiamo Il collezionismo Familiare Proprio Legato Alla famiglia Legato Alla casa Più alto Del mondo Noi Il numero Di piccoli Collezionisti Che c'è In Italia Non è Paragonabile A quello Di nessun altro Paese Del mondo Ma questo Che cosa Comporta? Comporta Che in Italia C'è Un diffusissimo Collezionismo A prezzo Medio-basso O Che Si esplica Solamente Nei confini Italiani A volte Addirittura Cittadini Nemmeno Regionali Perché ci sono Dei buoni pittori Che hanno Magari Un successo In una città Che può essere Roma Bologna Palermo Vi posso fare Mille esempi Milano O Catanzaro Per dirvi Vi posso fare Mille esempi Ma Pittori che poi Al di fuori Di quella città O al di fuori Di quella regione Non dico che Non sono sconosciuti Ma praticamente Non hanno Mercato Praticamente Non hanno Mercato Quindi noi Abbiamo Un piccolo Mercato Estremamente Ampio Nel mondo Accade Esattamente Il contrario Il numero Dei collezionisti Rispetto al numero Degli abitanti È infinitamente Più basso Che in Italia Però Le opere D'arte Viaggiano Solo quelle Riconosciute A livello Museale Internazionale E viaggiano E viaggiano A prezzi Estremamente Alti Un pittore Internazionale Che costa Poco Che costa Poco Cioè uno Che costa Niente Costa O 70.000 80.000 100.000 euro Capite Quindi Sono due Mercati Quello italiano E quello Internazionale Completamente Diversi Completamente Diversi E gli italiani I pochi Italiani I pochi Artisti Italiani Che entrano Nel mercato Internazionale Acquisiscono Immediatamente I prezzi Internazionali Capite Ed è quello Che è successo A Cattelan E quello Che è successo A Bunalumi E quello Che è successo A Disgro E quello Che è successo Allo Giudice E quello Che è successo A tanti Tanti Artisti Tanti A alcuni Artisti Tanti Relativamente Alcuni Artisti Italiani Noi In Italia Oggi Nell'ambito Della figurazione Abbiamo Un fenomeno Un fenomeno Culturale Un fenomeno Culturale E che diventa Inevitabilmente Un fenomeno Economico Qualcuno Qualcuno lo mette Nei Nuovi Figurativi Qualcuno Lo immette Nell'ambito Dei citazionisti A me A me In che ambito Lo mettono Non mi interessa Proprio A me interessa Prima di tutto La qualità Pittorica Di questo artista E poi E poi La cosa Che mi interessa Da morire L'attualità L'attenzione Alla cronaca Quotidiana Di questo artista E Eccolo qui Lo vedete Questo È un personaggio Conosciuto Da tutti i bambini Del mondo Non da tutti i bambini Italiani È da tutti i bambini Del mondo E nel quadro Trovate Che cosa vedete Una camera da letto Una camera da letto Che vive Tra classicità E modernità Perché vedi Il letto a baldacchino Che richiama Addirittura il mondo Seicentesco Il mondo antico Però dopo vedi Il personaggio Di attualità Televisiva E Per questo I citazionisti E la citazione Di uno di quegli artisti Di uno di quei quadri Che Oggi Rappresentano Il punto di riferimento Del collezionismo internazionale Riconoscete Quell'opera È un'opera Famosissima Nel mondo Di Zhang Xiaogang Uno di quegli artisti Cinesi Che fanno prezzi Miliardari Ecco Non mi importa più nulla Perché Tanto so che Non lo potrò mai comprare Quanto costa? 5, 8, 12 È uguale Anche se ne costa 24 È uguale Perché È fuori dalla La mia portata Quindi quando Gli artisti Arrivano a quei livelli Non Non li conto più I milioni Non mi interessano Però È uno di quegli artisti Che fanno Storia Nella cultura Contemporanea Mondiale Noterete Un elemento Il lampadario È storia Il quadro È storia L'omino Meccanico È storia Contemporanea Il letto A baldacchino È citazione È storia Il tappeto Cinese Che richiama Il quadro Enorme Appeso A parete È storia Qual è l'elemento Che Non fa parte Della storia Del già visto In questa scena Qual è l'elemento Che È quasi Illogico Che Non dovrebbe esserci Che non dovrebbe Figurare In quella scena Maria Qual è l'elemento Che non dovrebbe Figurare In quella scena Qual è È bravissima Certo Lo struzzo Lo struzzo Cosa rappresenta Che cos'è Perché Perché c'è Quell'elemento Pensate a come Si comporta Lo struzzo Quando avverte Un pericolo Cosa fa Nasconde la testa Nel terreno Perché La maggior parte Degli osservatori Dicono Perché lo struzzo È stupido Perché Perché lo nasconde La testa nel terreno Lo sai perché? Perché vuole mimetizzarsi Vuole sembrare un cespuglio Vuole sembrare un cespuglio Vuole non sembrare un essere vivente Ma un vegetale Ma un vegetale Poi Se invece Il nemico si avvicina Tu sai che Lo struzzo è velocissimo Scappa Ed è molto veloce Quindi L'artista Vuole mimare Questo comportamento Nella società Contemporanea L'osservare Senza apparire Capire Il perché Delle azioni Della contemporaneità E le conseguenze Del modo di vivere Della contemporaneità Per poi Fuggire Non solo Nella memoria Ma nella Ricostruzione Di un mondo autonomo Ma nella Ricostruzione Di un mondo personale Guardate che Questo è un artista Non bravo Pazzesco È un artista Che detta Dei comportamenti D'osservazione Epocale Si chiama Angelo Accardi Oh Vai a parlare Col direttore Del Boma Lo considera Uno dei più Importanti Artisti Contemporanei Vai a parlare Col direttore Della National Gallery Vai a parlare Col direttore Degli uffizi A Firenze Vai a parlare Col direttore Dei Musei Vaticani Vai a parlare Col direttore De Della Galleria Nazionale D'Arte Moderna Di Rotterdam Vai a parlare Con il direttore Del Prado Di Madrid Quando parli Di Angelo Accardi Parli Di Una realtà Della cultura Contemporanea Che racconta Il presente In funzione Del passato E con una certezza Di proiezione Nel domani Quindi È uno Dei più Grandi Artisti Oggi Al mondo E Ve lo dico Oggi Come Ve lo dicevo Quando Algardi Costava 2000 euro Come ve lo dicevo Quando vi vendevo Bonalumi A 5000 euro Come Ve lo dicevo Quando di Lo Giudice Non si vedeva Un quadro sul mercato Neanche a 1000 euro Sono Quegli artisti Che Producono Pochissimo Perché ogni quadro È pensato Perché ogni quadro È lavorato Perché ogni quadro È dipinto Con una tecnica Che non ha niente a che vedere Con le tecniche moderne Legate alla fotografia Legate all'emulsione Legate Alla computerizzazione Quindi Legate alla velocità Espressiva No Lui Offre Un linguaggio Eterno Eterno Con una tecnica pittorica Tradizionale E questo Lasciatemelo dire Non esiste più Al mondo Ecco perché Quest'artista Ha tratto L'attenzione Di tutta la cultura Internazionale E sta firmando Un contratto Con uno Dei più grandi Mercanti Operatori finanziari A quel livello Io non li chiamo più Nemmeno mercanti Perché sono Operatori finanziari Che operano A miliardi Di euro Non a milioni Di euro A miliardi Di euro E quindi Questo È L'artista Ricordati Questo nome Angelo Accardi Che domani Non avrai Abbastanza Denaro Per poter Comprare Un'opera Che domani Non avrai Abbastanza Denaro Per poter Comprare Un'opera Di Angelo Accardi E io Oggi Ho L'onore Questo lo chiamo Onore Come quando Facevo il matto Per vendervi Il taglio Di Fontana Invece Che il quadro Di Cassinaghi Che volevano Tutti Come quando Facevo il matto Perché compraste Un'ovatta Di manzoni Piuttosto Che un'opera Di cascella Però mi compravate Cento cascella E un manzoni E questo È storia Ormai Io mi rivolgo Ai più attenti Tra di voi Ai più Raffinati Culturalmente A coloro Che sanno Ragionare Al di là Dell'ovvietà Del messaggio Di massa A coloro Che sanno Capire I perché Della realtà Contemporanea Opera Pazzesca Di Angelo Accardi Ricordatelo Oggi Lo compri Ancora Ad un prezzo Umano Questo È un artista Che Tra breve Non avremo Abbastanza Denaro Per poterlo Comprare Tra breve Tra breve Quindi Alle tre opere storiche Che vi ho fatto vedere Fino a questo momento Le due opere Di Tano Festa E quell'opera Straordinaria Di Mario Schifano Aggiungo Una preziosità Aggiungo Una gemma Aggiungo Quel qualcosa Che vi porta In una dimensione Culturale Non più solamente Italiana Ma mondiale Con una proiezione Economica Non più Italiana Ma internazionale Tocca a voi Tocca a voi Tocca a voi Non perdere Un'opera Di questo livello Amici Quattro quadri Due Tano Festa Uno Schifano Un'opera straordinaria Di Angelo Accardi Cosa mi dite? Cosa fate? Cosa volete rileggere? Cosa volete rivedere? Scusatemi Cercate le opere Di Schifano Avete davanti agli occhi Un'opera di Schifano Fantastica Avete davanti agli occhi Un'opera di Schifano Letteralmente Clamorosa Perché andare a cercare E mi dì a 14 ore Quando avete L'opera Più significativa Calligraficamente superba Concettualmente straordinaria Questa Illuminazione Della mente Questa Capacità di vedere La verità Nell'oscurità Questa capacità Di individuare Il nuovo Il vero L'eterno Nell'oscurità Della globalizzazione Opera Letteralmente Fantastica Ed è Un quadro Autografo Di Mario Schifano Che è ancora La possibilità Di comprare A un prezzo umano Che è ancora La possibilità Di acquisire A un prezzo Umano Poi Due Tano Festa Veri Niente a che vedere Con i Tano Festa Che siete abituati A vedere In giro Non gli assomigliano Nemmeno Né calligraficamente Tantomeno Concettualmente Due Tano Festa Di quelli Storici Uno Addirittura Ipocale Uno Addirittura Ipocale Quella Penelope Entra Di prepotenza Tra i dieci Quadri Più Importanti Che Tano Festa Ha dipinto Nella sua vita Quindi Quello Consideratelo Quello Consideratelo Poi Vi ho voluto Far vedere Un quadro Particolare Un'opera Particolare Sulla quale Concentrare La vostra Attenzione Quella Di Angelo Accardi Che Vi proietta Verso Il mercato Mondiale Di domani Tocca a voi Sapere Approfittare Di queste Opportunità Vorrei Dei commenti Vorrei Dei commenti Da parte Vostra Sulle Quattro Opere Che vi ho Fatto vedere Fino a questo Momento Qualcuno Mi dirà Ma in Un'ora Di trasmissione Mi hai fatto Vedere Quattro Quadri Adesso In un minuto Ve ne farò Vedere Cinque In un minuto Ve ne farò Vedere Cinque Ma prima Mi dovete Dare Un vostro Giudizio Una vostra Impressione Sulle Quattro Opere Che Vi sto Mostrando Su Accardi Vi posso Dire la Verità Comprare Accardi Oggi È Come Aver Comprato Boetti Bonalumi Manzoni Ieri Comprare Accardi Oggi Significa Investire Ma Investire Nella maniera Più Fruttuosa Che Possiate Pensare Di Investire Mi Raccomando Non Esitate Mi Raccomando Non Esitate Opera Emozionante Per il Significato Per l'esecuzione Opera Semplicemente Grandiosa Opera Semplicemente Straordinaria C'è Con il Lampadario Addirittura Un richiamo Ai mitici Coniugi Di Arnolfini Di Van Eyck Con il Lampadario C'è addirittura Un richiamo Alla Cultura Di Van Eyck Mi Raccomando Non Lasciatevi Sfuggire Un'opera Del genere O Siete In 4-5 Che Mi state Chiedendo Dell'opera Di Angelo Accardi Guardate Che O lo comprate Subito O i prezzi Ve lo dice Già il prezzo Attuale Che è Al limite Noi L'abbiamo Voluto Tenere Di 500 Euro Al di Sotto Dei 20 Mila Proprio Per Mantenerlo Possibile Sul Mercato Italiano Ma Nel Giro Di Questo prezzo Dimenticatelo Nel giro Di pochi Mesi Questo prezzo Vi sembrerà Una leggenda Vi sembrerà Un mito Questo Signore Diventa Un fenomeno Di mercato Internazionale Questo Signore Con tutte le Conseguenze Sul prezzo Diventa Un fenomeno Sul mercato Internazionale E fate Presto Perché Di quadri Non ce ne sono Ce ne sono Pochissimi E fate Presto Perché Domani Sarete Voi A chiedere Le opere Di Angelo Accardi E Vi obbligheranno A pagarle Cifre Che Quella Che Vi sta Chiedendo Maria Oggi Vi Sembrerà Ridicola E dovrete Pagarli Cifre Che Quella Che vi Sta Chiedendo Maria In questo Momento Vi Sembrerà Un'utopia Impossibile Impossibile Ma Precipitatevi Ma Precipitatevi Andate a vedere Le aggiudicazioni Di tre anni fa Quattro anni fa Ma Che cosa Andate a cercare Andate a vedere Le aggiudicazioni Di tre anni fa Quattro anni fa Su un quadro Questo È Quella Piccolezza Non voglio dire Altro Meglio che sto zitto Meglio che sto zitto Se non mi faccio Più nemici Di quelli che ho Ma Questo Significa Non voler Capire Come Funziona Il mercato Oggi Questo Significa Allora Se andiamo a vedere La giudicazione Su Boetti Di dieci anni fa Che facciamo Ma poi non vedete Che tutto cambia C'è Voi andate a vedere La giudicazione In basso Ma perché non andate a vedere Quella in alto Ah quella in alto Non vale Quella in alto Fa schifo Quella in basso È È legge Ma dai Ma dai Ma dai È ridicolo Solamente Pensarle Certe cose Oh Senza Pensare Che a volte A me è capitato A me è capitato A volte In asta Compri Soprattutto Nelle piccole Aste Soprattutto Nelle aste Minori Puoi comprare Un quadro Che nessuno Ha visto Che in quel momento Sfugge All'attenzione Dei collezionisti Se a un prezzo Particolarmente Basso A me Quante volte Mi è capitato Di comprare In asta Un quadro A un prezzo Particolarmente Basso Che il giorno Dopo Mi hanno offerto Il doppio E gliel'ho venduto Eh Non mi è capitato Una volta Nella vita Mi sarà capitato Tra quadri antichi E quadri moderni 500 volte Nella vita Allora Perché Perché ho avuto La fortuna Di trovare Un'opera A un prezzaccio Quell'opera Non vale più È diventata Merda Ma quando mai Tant'è vero È talmente Merda Che il giorno Dopo Me l'hanno pagata Al doppio E dopo Chi l'ha pagata Al doppio L'ha venduta Guadagnandoci Ancora Quindi come fate A fare Quei riferimenti Sono Idiozie 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 Di persone Che di mercato Non ne capiscono Un'h E sono talmente Presuntuose Da credere Di possedere La verità Indice Di stupidità Totale Io se a quelle persone Calcoliamo Un livello Di intelligenza Resterà I minimi Storici Minimi Storici Maria Faccio di tutto Per conquistarmi Dei nemici Però la verità Gli la dico In faccia E se hanno Qualcosa da ridire Mi telefonano Me lo dicono Perché Io accetto Il Confronto E il dialogo Soprattutto Con chi Non la pensa Come me Perché chi La pensa Come me Non mi diverte Io con Federico Non ci parlo Perché? Perché andiamo D'accordo Quindi Che discorso Facciamo? Da Federico Accetto I suggerimenti Quando io mi dimentico Perché sono vecchio Mi sfugge il nome Mi dimentico il nome E allora Approfitto Della sua giovinezza Per avere Il suggerimento Giusto Però Capito? Dato che andiamo D'accordo Mentre invece Mi diverte Moltissimo Discutere Con una persona Con la quale Abbiamo opinioni Completamente Differenti Perché? Perché Dallo scambio Delle opinioni Differenti Possiamo scoprire Qualcosa di nuovo Ma se parliamo Tutte e due Delle stesse cose Non ci divertiamo più Né io né lui L'importante È il dibattito No? È fondamentale Il dibattito Ma Invece la gente Normalmente Ama parlare Con chi la pensa Nella stessa maniera Oppure si accendono Nasce subito No No Non è vero Bisogna Sapersi Confrontare Sulle opinioni Differenti E solo da lì Può nascere Qualcosa Di diverso Di concreto E poi Quando uno Ragionevolmente Cambia idea È una conquista Non lo dovete considerare Un fallimento È una conquista È una conquista Importante Comunque Io la vedo così Allora Vi ho fatto vedere Quattro opere Non ne vogliamo parlare Su quello schifano Non avete domande Da farmi Sulle due opere Di Tano Festa Non avete domande Da propormi Su Quell'opera Di Angelo Accardi Che mi dite? Che mi dite? Che mi dite? Che mi dite? Quattro opere Sulle quali Mi batto Come un leone Perché sono quattro opere Importanti Sono quattro opere Storiche Sono quattro opere Che restano Nella storia Della pittura Non solo Nella storia Della pittura Degli autori Delle quattro opere Ma nella storia Della pittura Universale Universale Allora Non mi dite nulla? Non c'è nessuna domanda? Ve lo posso dire Su quell'opera di Tano Non vi condividerò Mai E poi sono convinto Che Maria Su quest'opera Non mi ha detto Qualcosa Che voi avete detto Per non farmi Arrabbiare di più È vero O non è vero Maria? È vero È vero? Qualcuno ha detto Una bestialità Totale Ma me lo dici Da dove viene Questa bestialità Totale? Da quale città Viene? Da Milano Ah da Milano Ah Strano Perché di solito Da Milano C'è gente Più informata Sul mercato Internazionale Quindi è strano È veramente Molto Molto Strano Che Non so quale critica Abbiate fatto Forse È una giudicazione D'asta Di quattro anni fa No Un certo Parres Vuoi dire Ma E questi sono I superconoscitori Quelli che sanno Tutto loro Penelope 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 Eh Gli chiedi perché Si chiama Penelope A questo signore Che sape tutte cose Eh Gli chiedi perché È stata battezzata Penelope Eh Proprio da Tano Festa Mamma mia Eh Mio papà Diceva Meglio sentire Queste bestialità Che essere sordi Ma io sono diventato Pure sordo Quindi Le bestialità Mi irritano Pazzia Allora Vi ho promesso Di farvi vedere Cinque opere Particolari In un minuto Gliele facciamo vedere Cinque opere Particolari In un minuto Un Mimmo Germanà Vero Un Mimmo Germanà Fatto Da Mimmo Germanà Io ho avuto la fortuna Di conoscere Un Mimmo Germanà Come ho avuto la fortuna Di conoscere Tano Festa Ma Tano Festa Non è che l'ho visto Una volta L'ho frequentato Per anni Dai Eh Mimmo Germanà Mimmo Germanà Devo dire la verità Mimmo Germanà Meno Ci siamo incontrati Una quindicina di volte Siamo stati insieme Pranzi Cene L'ho accompagnato A Parigi Dove lui aveva Un ottimo mercato E quello che mi ha colpito Di Germanà È stata La sua capacità Di inventare Di suggerire Addirittura Ad Achille Bonitoliva Quelli che poi Sarebbero diventati I temi Della transavanguardia Movimento Nel quale lui Non entrò mai Eh Però Ideologicamente Ne è stato Un anticipatore E un partecipatore Una pittura Fluida Eh Affascinante Di freschezza Eh Di ritorno Alla natura Eh Potrei dire Tante cose Sul Mimmo Germanà Eh Opera Preziosa Poi Un salto Nella mia Giovinezza Eh Guarda Che gioiello Eh Questo Questa tecnica Mista Eh Di una Bellezza Straripante Eh Di Aligi Sasso Vedete la luce Che emana Quest'opera Eh Vedete come Aligi Sasso È Erede Eh Di quella Pittura Divisionista Eh Della fine Dell'ottocento Eh Dell'inizio Del ventesimo Secolo Eh Dalla quale Poi nascerà Eh Che sarà la base Del futurismo Eh Guarda Che cos'è Eh Quello che ti colpisce In quest'opera È la luce Che emana È Come se la fenice Illuminasse Il mondo Eh Illuminasse Eh Le menti Io la trovo Eh Un'opera Preziosa Di Aligi Sasso Eh Tra le più belle Di quest'artista Eh Tra le più affascinanti Di quest'artista Eh Pensate Che è eseguita Eh Nel 1970 Eh E Pubblicata Anche È pubblicata Eh Su È pubblicata Proprio Eh Sul Catalogo Dell'Opera Di Sasso Gioiello Gioiello Ha un prezzo Incredibilmente Eh Modesto E poi Eh Uno dei miei Maestri Uno dei miei Miti Eh Quando io ero molto Giovane Nella Roma Eh Di quegli anni Eh Mito Mino Maccari Era un mito Eh Mino Maccari Era Eh Un punto Di riferimento Eh Storico Eh Per la libertà D'espressione Nella pittura Eh Mino Maccari Eh Nell'ambito Della Eh Pittura Pungente D'ironia Eh Di satira Eh Che deriva Poi Eh Dal Eh Dal Giornalismo Dal Eh Dalla Satira Eh Sociologica Politica Eh È È Stato Un Maestro Incredibile E Anche In quest'opera No C'è Eh Questo Motivo Satireggiante Eh Vedete Questi Quattro Eh Personaggi Eh Eh Più o Meno Eh Anzianotti Più o Meno Eh Legati a Eh Quelli che erano Gli schemi mentali Eh Della Borghesia Eh Anteguerra E Immediatamente Eh Postguerra Eh Che guardano Ammirati Eh Con quest'aria Di desiderio Compiaciuto Eh Quella La La Bella Fanciulla No Eh Questa Fanciulla Eh Piacevole Dai Capelli Rossi Eh Opera Tipica Di Mino Maccari Eh Un Olio Suttela Eh Eseguito Da Mino Maccari Eh Nel 1967 Anche Qui Eh Un prezzo Eh Straordinariamente Piccolo Anche Qui Un prezzo Eh Straordinariamente Modesto E Poi Tra Tante Opere Minori Un'opera Eckelsa Di Alberto Sughi Un'opera Straordinaria Di Alberto Sughi Quando io Paragono Alberto Sughi Ai grandi Pittori Inglesi Bacon Freud Eccetera Qualcuno Si arrabbia Vero Maria Sapete Perché Perché Questo Qualcuno È Abituato A Vedere Le Opere Di Alberto Sughi Dozzinali Commerciali Quelle Messe In Giro Da Una Grossa Galleria Milanese Che Ha Commercializzato Alberto Sughi Negli ultimi Anni Della Sua Vita E Che Gli Ha Fatto Produrre Delle Opere Assolutamente Banali Ma L'Alberto Sughi Che Ho Conosciuto Io L'Alberto Sughi Della Storia Di Un Prete L'Alberto Sughi Della Cena Della Borghesia L'Alberto Sughi Di Quel Quadro Mercato Del Sistema Di Mercato Per Cui Oggi Comprate Più Volentieri Una Temperina Di Sughi Con La Classica Signorina Al Bar Magari La Pagate 4 5 Mila Euro E Poi Trovate Caro Il Grande Quadro Di Sughi Dove C'è L'incisività Dove C'è Il Tormento Dove C'è Il Perché Dei Dubbi Della Gioventù Di Quegli Anni Il Dibattito Interiore Dove C'è La Vita La Vissuta Opera Pazzesca Di Alberto Sughi Che Tra L'altro Viene Da Una Delle Collezioni Più Importanti Di Opere Di Quest' Artista Perché Prima Della Grande Galleria Milanese C'era C'erano I Fratelli Russo Che Compravano Le Opere Di Sughi E Quando C'era Questo Binomio Sughi Aveva L'assoluta Libertà Espressiva Tant'è Vero Che Le Grandi Mostre Sono State Fatte Proprio Sotto Leggida Dei Fratelli Russo Guardate Cosa Che Razza Di Pittore Era Alberto Sughi Guardate Che Razza Di Pittore Era Alberto Sughi Un Pittore Che Andava Oltre I Pittori Della Realtà Che Andava Oltre Savier Bueno Perché Coglieva Non Solamente L'esteriorità Dell'immagine Ma Il Dramma Interiore Di Quella Fanciulla Se Guardate Gli Occhi Cogliete Il Pensiero Se Guardate L'Espressione Del Viso Cogliete Il Pensiero Il Dubbio Quindi Vedete L'artista Che Va Oltre Il Racconto Ed Entra Nell'animo Del Personaggio Rappresentato Ecco Perché Paragono Sughi Ai Grandi Pittori Inglesi Perché Capace Di Opere Di Quel Livello Era Capace Di Opere Di Quel Livello Con Una Tecnica Pittorica Sopraffina Con Una Tecnica Pittorica Incredibile Poi Se Se Guardate Le Opere Commerciali Dell'ultimo Periodo Io Quelle Le Dichiago Tutte False Vedi Perché Perché Sono False Ideologiche Perché Sono Manifestazioni Del Mercato Che Niente Hanno a Che Vedere Con Il Pensiero Con La Profondità La Capacità Espressiva Dell'artista Quella È Un'opera Vera Di Alberto Sughi Poi Ci Sono Le Opere Decorative Un Amico Mi Dice Che Un Gallerista Una Volta Gli Ha Confessato Che Secondo Lui Germana Era Uno Dei Pittori Più Talentuosi Della Trans Avanguardia Io Sono Talmente D'accordo Con Questo Gallerista Che Ho Attribuito Addirittura A Germana La Prima Idea Della Trans Avanguardia Come Se Fosse Stato Lui A Suggerirla Da Childe Bonito Oliva Che Poi L'ha Realizzata Teoricamente Il Problema Di Germana Sapete Qual È Che Germana Beghi Sono Sennò Il 10% Di Quelli Autenticati Ma Questo Accade Per Rotella Per Dogazio Poi Non si Capisce Perché Gli Archivi Cambiano Prima Ce N'è Uno Poi Ce N'è Un Altro Dai Questo È Un Altro Discorso Un Discorso Molto Più Pesante Questo È Un Germana Dipinto Da Germana Dipinto Da Germana E Questo È Importante È Come Il Sassu Estorico Iper Pubblicato Come Il Maccari È Un Maccari Dipinto Da Mino Maccari Il Sughi Non Ne Parliamo Proprio Perché Se Lo Paragoniamo Alle Opere Sul Mercato Di Alberto Sughi Ti Accorgi Che Sembra Addirittura Un Altro Pittore Sembra Addirittura Quindi Ti Rendi Conto Che È Tutta Un' Altra Cosa Tutto Un Altro Mondo E Poi Vi Voglio Far Vedere Un Artista Di Grande Successo Attuale Giuseppe Veneziano Beppe Veneziano Lo Vediamo A me Piace A me Piace Molto Molto Pop Molto Ben Costruito Chi Chi È Questo Signore Facile No Facile Ora Qualcuno Mi Dirà Quest'opera È Stata Giudicata A 3100 Euro Più I Diritti D'asta In Un'asta Fatta Da Arte Investimenti Tre Anni Fa Credo Che Sia Tre Anni Fa Credo Che Sia Tre Anni Fa Sì Chi L'ha Comprata Tre Anni Fa L'ha Pagata 3.006 3.007 L'ha Pagata Oggi La Rivende Oggi Giuseppe Veneziano Costa Molto Più Di Tre Anni Fa Ma È Normale È Uno Di Quegli Artisti Che Negli Ultimi Due Anni Ha Acquisito Una Visibilità Ha Acquisito Un Consenso Di Mercato Straordinario E Poi Ve Lo Posso Dire Io Se Fossi Berlusconi Quell'opera Me La Comprerei Di Corsa Dai È Troppo Bella Poi Oltretutto Berlusconi Compra Tante Opere Quindi Un'opera Del Genere Di Un Artista Come Giuseppe Veneziano Non La Trascurerei Nella Maniera Più Assoluta Nella Maniera Più Totale No È Un'opera Di Un'espressività Una Modernità Non È Il Solito Ritratto È Un Qualcosa Che Va Oltre L'immagine E Coglie L'interiorità E Coglie Proprio L'essenza Del Personaggio Berlusconi L'essenza Del Personaggio Straordinario Che È Silvio Berlusconi Amici Tocca A voi Allora Germanali Gisassu Maccari Una Splendida Opera Di Alberto Sughi Quel Bellissimo Dipinto Di Giuseppe Veneziano Tutte Opere Che Aggiungiamo Al Ai Due Tano Festa Al Grande Schifano E A Quell'opera Straordinaria Di Angelo Accardi Sulla Quale Richiamo Tutta La Vostra Attenzione Sulla Chia Sulla Quale Richiamo Tutta La Vostra Sensibilità Allora Torniamo a rivedere Quell'opera Di Alberto Sughi E Poi La Penelope 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 Guardate La Bellezza Di Quell'opera Di Sughi Mi Devi Fare Un Primo Piano Perché È Veramente Un' Eccezionale Guarda Che Meraviglia Io vorrei Parlare Con un Amico Laura Vorrei Chiedere Ad un Amico Tra Tutte Le Opere Che Ti Ho Fatto Vedere Qual È Quella Che Vuoi Qual È Quella Che Desideri Qual È Quella Che Vorresti Far Entrare Nella Tua Collezione Io Oggi Ho L'opportunità Su Alcune Opere Di Proporvi Dei Prezzi Letteralmente Straordinari Però Il Ve lo dico Subito Eh Su Alcune Opere Ho la possibilità Di proporvi Dei prezzi Straordinari Sull'Angelo Accardi Non vi posso Togliere Nemmeno Dieci Euro Non Cento Euro Dieci Euro E Questo Ve lo dico Subito Immediatamente Perché Su Angelo Accardi Stiamo facendo Un prezzo Di Propaganda Pubblicità Pubblicità Angelo Accardi Diventa La nostra Pubblicità Come lo è stato Boetti Come lo è stato Bonalumi Come lo è stato Isgro Tutti artisti Che vi abbiamo fatto Comprare A nulla E che poi Sono arrivati A costare Le cifre Che costano Su Angelo Accardi Accade Esattamente La stessa Cosa Quindi Su Angelo Accardi Non vi posso Gratificare Di nessuno Sconto Nemmeno Nemmeno 10 euro Per dirvi Il nulla Per dirvi Un caffè Al bar Per dirvi Il nulla Su altre opere Vi posso Gratificare Di prezzi Clamorosi Però Questa mia Opportunità Si lega Alla prima Richiesta Che voi Fate Io su un'opera Un'opera A trasmissione Vi posso Regalare Su un'opera A trasmissione Posso fare Una trasgressione Importante Quindi Lascio a voi Il compito Di chiedermi Dove Volete Che io Trasgredisca Volete Che lo faccio Su quell'opera In particolare E su quell'opera Che desiderate Voi Dovete Chiamarmi E Il Il primo Che mi indicherà Un'opera Sulla quale Posso fare Una trasgressione Importante Cercherò Di accontentarlo Nella maniera Più Assoluta Più gradevole Ma Uno Uno Solamente Uno Solamente Quindi Voglio vedere Chi ne approfitta Per primo Chiedendomi Un'opera In particolare E ho Eliminato Da questa Opportunità L'opera Di Angelo Accardi Ditemi voi Ditemi voi Nessuno vuole Un prezzo Particolare Su un'opera In particolare Nessuno Nessuno di voi Vuole Proprio Possedere Acquisire Una delle opere Che vi ho presentato E per le quali Mi sono battuto E mi sto battendo Allora Maria Però mi deve dire Sì Al secondo All'istante Maria Però mi deve dire Sì All'istante Io Sull'opera Di Sughi Un'opera Un'opera Ho fatto due prezzi Da follia Ho fatto due prezzi Da follia Approfittatene Perché Obiettivamente Opere del genere A questo prezzo Non le vedrete Mai più Poi Tra le due Ce n'è una Che Già oggi Vale Il doppio Di quello Che Maria Vi ha chiesto Tra le due Ce n'è una Che Oggi Vale Esattamente Il doppio Di quello Che Maria Vi ha chiesto Vi sto dando Delle Opportunità Epocali Vi sto Letteralmente Proponendo Delle Opportunità Epocali Sappiate Approfittarle Sappiate Approfittarle Grazie a tutti Grazie a tutti Sappiate approfittarmi. E poi, visto che ci tengo, che entriate nella storia, quando ti facevo vedere un quattro lettere così di bohetti e te ne ho venduti centinaia a 300 mila lire, a 500 mila lire, a un milione delle vecchie lire, te ne ho venduti non qualcuno, forse 800, 700, 800. E oggi quelle opere che avete comprato a quelle cifre le rivendete a 60 mila, 65 mila, se è bianco addirittura 80 mila euro. Questo signore che è apparso sul mercato alla fine del 2018, che è uno dei geni del ventunesimo secolo, questo signore che è noto sul mercato con lo pseudonimo di Alan B. e che sta diventando un punto di riferimento del mercato mondiale, come più volte vi ho suggerito e vi ho detto, perdilo, perdilo. questa genesis deliziosa che poi riprende proprio il motivo tipico della vita delle api, proprio Alan B., quindi questo rispetto per la natura, ma il rispetto per la natura non solo per l'opera delle api, ma per la condizione sociale delle api, per cui è il lavoro di tutti che porta al fine comune, è questo desiderio di partecipazione di tutti gli esseri dell'umanità al mondo del sapere. questo è un genio, è stato un genio, che ha voluto che il suo nome si nascondesse sotto uno pseudonimo e ha messo le sue opere sul mercato solo dopo la sua scomparsa. Quindi ad eliminare qualsiasi elemento speculativo e un artista, un artista a cui non si può aggiungere nemmeno un quadro al catalogo generale, perché tutta l'opera di Alan B. è già catalogata, quindi non si può aggiungere nulla, quindi non si presta alle solite speculazioni che gli archivi fanno sugli artisti post-mortem. Opera sensazionale, opera sensazionale, queste sono le opere che dovreste non perdere, che dovreste acquistare immediatamente, che dovete far diventare il patrimonio essenziale della vostra collezione. Quando vi do la possibilità di avvicinarvi ad opere così, ad opere così, ad opere così, ad opere come quella di Sughi strepitosa, ad opere come questo gioiello di Alan B. che ho in mano, queste sono le opere che devono diventare il fulcro della vostra collezione, in modo che domani la vostra collezione sia un punto di riferimento museale ed economico. Quello che conta non è il nome e il pezzo di carta, quello che conta è la qualità e l'autografia delle opere che comprate. Mi raccomando, non perdete queste clamorose opportunità. Mi iper raccomando, non perdete queste essenziali opportunità. guardate in quell'opera di Angelo Accardi quella citazione di Zhang Zheogang. Guardate quella citazione di Zheogang. Preziosa, preziosa, preziosa. Un'opera di Angelo Accardi, preziosa. Un attimo solo. La Lab B è prenotato e anche il Sughi, il cliente al quale ha fatto quello sconto particolare, la ringrazia. Io ringrazio voi. Io ringrazio voi. Non perdete le opere ipervincenti. Non perdete le opere ipervincenti. Mi iper raccomando. Guarda che meraviglia. Guarda che meraviglia. Guarda che favola. tutti, io per primo sbatterò la testa contro il muro per non aver comprato quest'opera. Questa, questa, la ritrovate in uno dei più grandi musei del mondo. E ci sarà la fila in casa vostra dei direttori di museo, delle case d'asta più importanti del mondo per avere l'onore di mettere in gara quest'opera di Tano Festa. per avere l'onore di mettere in gara quest'opera grandiosa di Tano Festa. Da follia. Da follia. Da follia. E' un'altra cosa. Questa opera sarà motivo di rimpianto per tutti, me per primo. Posso chiedere ad un amico, compramela. Io adesso non ho i soldi, ma questa è un'opera che vale qualsiasi cifra. Questa è un'opera che diventa un punto di riferimento storico. Questa è un'opera ideologicamente fondamentale nella storia dell'arte degli anni Sessanta nel mondo. E voi oggi avete l'opportunità di acquisirla ad un prezzo clamoroso. Mi iperraccomando. Mi iperraccomando. Mi iperraccomando. Lo dico a un fratello. Questa è l'opera, ve lo giuro, che vorrei comprasse Gabriele. Ve lo giuro, questa è l'opera che perderla è una follia. È letteralmente una follia. E dato che c'erano tre o quattro amici su quel gioiello di Alambì che vi ho fatto vedere, ora vi tiro fuori la gemma delle gemme. Vi tiro fuori l'opera che non ha prezzo e non ha uguali. Sapete quando Alambì, questo è lo pseudonimo, ha cominciato a dipingere dopo aver collezionato per anni, dopo aver avuto contatti con Beuys, dopo aver capito cosa significava dipingere, cosa significava il mondo delle api, cosa significava la socialità delle api e l'operazione di sopravvivenza del pianeta che proveniva dal lavoro delle api. 1975, le prime opere pittoriche che esistono di Alambì. Questo gioiello, che non hanno uguali, che come Penelope finirà in uno dei più grandi musei del mondo, è del 1978. pezzo di storia di Alambì. Pezzo introvabile di Alambì. Opera pazzesca di Alambì. Perdila, perdila al prezzo a cui compri un peracottaro contemporaneo. Perdila, un'opera geniale che resta nella storia dell'umanità. ecco, vedi, è l'acquisto più clamoroso della storia. Uno, due. L'acquisto più incredibile della storia. Uno, due. Due opere da follia. Due opere che restano come testimonianza inequivocabile del valore storico dell'artista che le ha eseguite. Due opere diversissime, per contenuto concettuale, per esperienza pittorica, ma due opere incancellabili, incancellabili nella storia della pittura dell'umanità. come il caravaggio della Sala del Sileno alla Galleria Borghese. Come il caravaggio della Cappella Contarelli a San Luigi dei Francesi. Amici, non perdete le opere che segnano la storia del pensiero. Non perdete le opere che testimoniano l'evoluzione del pensiero umano. soprattutto quando quelle opere sono ancora accessibili a prezzi contenuti. soprattutto quando quelle opere sono ancora accessibili a prezzi modesti. non le perdere per nessun motivo al mondo. Io il mio appello ve l'ho lanciato. Poi tocca a voi. se avete domande con gioia infinita, se volete approfondimenti con partecipazione assoluta, ma adesso tocca a voi. ma adesso tocca a voi. mi iper raccomando, mi iper raccomando, non perdete delle opportunità epocali. vedi, le grandi opere, bisogna saperle confermare nel momento in cui avete la possibilità di acquisirle a un prezzo straordinario. nel momento in cui avete la possibilità di farle vostre a un prezzo piccolissimo. io mi ricordo, eh? quando guidati dal sistema di mercato avete scelto, nel momento in cui dovevate comprare le opere vincenti, avete scelto quelle che vi sembravano più acclamate sul mercato del momento. purtroppo è un'esperienza che ho vissuto e di cui ho fatto tesoro, ma non è facile farne tesoro. quindi chiedetemi e io sono completamente dalla parte vostra. adesso vorrei che la regia vi facesse rileggere le nove opere delle quali vi ho parlato, anzi le dieci opere con l'Alan B. eh? le dieci opere più l'Alan B con la Mosca. le nove più l'Alan B con la Mosca. giusto? giusto. grazie. quindi chiedo alla nostra regia di rileggere le nove opere che vi ho fatto vedere più la gemma di Alan B. grazie. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. a tutti. grazie a tutti. che gioiello di Alan B. che gioiello di Alan B. che gemma preziosa di Alan B. mai, 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 un milione di volte mai di perdere un'opera come quella che vi ho fatto vedere di Alain B. Sultano Festa non parlo più, perché è immorale, è veramente immorale. Quello che state buttando via, quello che state perdendo è letteralmente immorale e mi dispiace per tanti motivi, soprattutto per la memoria di Tano. Poi sarete puniti, vi accorgerete quello che costerà, non un'opera così bella, non un'opera storica come quella che vi sto facendo vedere di Angelo Accardi, ma vi renderete conto di quello che costerà sul mercato un'opera banale di Angelo Accardi. Non con la citazione di uno dei quadri più famosi nel mondo oggi, Ipermilionario, non con la citazione dell'interno di una camera da letto, non un quadro così attrattivo dal punto di vista dei contenuti. Vedrete quello che costerà Angelo Accardi e vi ricorderete di quello che avete buttato via oggi. E vi ricorderete di ciò di cui non avete saputo approfittare oggi. Guardate, sono accanto. Il delitto riferito agli anni Sessanta è il delitto riferito alla contemporaneità, ma sono due delitti verso voi stessi, verso la vostra collezione, due delitti nei confronti della vostra attenzione alle problematiche storiche della pittura. Due delitti imperdonabili, è come se non aveste comprato Pollock o Rauschenberg, è come se non aveste comprato Kate Haring o Tombly, è come se non aveste comprato né Burri né tantomeno Fontana. Due opere che rimpiangerete per tutta la vita, due opere che mi direte, ho commesso il più clamoroso degli errori nel momento in cui mi sono capitate e non ho avuto l'attenzione e la volontà di di comprarle. Ai, ai, ai. Grazie. 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 No, no, decidete adesso, decidete adesso. avete visto che gioiello di Alain B. ho aggiunto alla collezione? avete visto che gemma di Alain B. ho voluto aggiungere alla collezione? 1978 1978 1978 queste sono le mie vendette perché poi ve lo faccio rivedere poi ve lo faccio rivedere quando correrete a comprare le opere di Alain B. nelle aste italiane e internazionali a decine e decine di migliaia di euro e quel giorno è tutt'altro che lontano e quel giorno è tutt'altro che lontano e sarete voi a correre nelle aste internazionali ed italiane per comprare gli Alain B a cifre completamente diverse che eroghi che eroghi che eroghi che eroghi che eroghi e poi faccio l'ultima proposta della giornata sull'artista che amo più di tutti sull'artista che ormai non solo è una gloria della pittura italiana nel mondo ma è una gloria della cultura mondiale eccole qua quattro opere da favola quattro opere pazzesche quattro opere ipervincenti di Franca Pisani tre dedicate ma poi devi sentire i materiali non a caso al museo Tessile di Torino le hanno dato l'anno scorso un premio alla carriera quindi devi sentire i materiali sui quali sono realizzate queste opere da sogno di Franca Pisani Franca Pisani è uno un artista tra i viventi tra i contemporanei una numero uno al mondo come la Abramovic come i grandi nomi della cultura mondiale ma non al femminile o al maschile in assoluto in assoluto dal vecchio studio della Pisani al mitico Borgo Tecolaio a Firenze sono nati e è diventato a testimone dei momenti più trasgressivi e più affascinanti della storia della cultura internazionale in quello studio abbiamo visto nascere la poesia visiva in quello studio abbiamo visto svilupparsi l'arte povera in quello studio abbiamo visto nascere e svilupparsi tutta una serie di artisti legati al mondo fiorentino quindi artisti che poi sono diventati importantissimi nell'ambito della pittura concettuale eccetera Franca Pisani è la matrice di tutto quest'artista che riscopre il segno primigenio nella cultura addirittura paleolitica quest'artista che viaggia dalle origini della pittura fino alla evoluzione più eclatante della storia dell'immagine con la pittura analitica con la pittura concettuale con tutte le varianti del mondo espressivo contemporaneo quest'artista che ha una storia che comincia dal Boburg e il 15 di marzo non mancate terrà una conferenza sulla storia e l'evoluzione della sua concettualità non alla galleria Piripicchi non in un museo inferiore ma davanti ad una platea di importanza culturale e mondiale Franca Pisani racconterà al museo degli uffizi la sua storia la sua storia museale la sua storia concettuale questo accadrà tra pochi giorni tra due settimane il 15 di marzo nel primo pomeriggio al museo degli uffizi conferenza di Franca Pisani che partirà che partirà dalla mitica operazione Operozio dove ci sono raccolte tutte le genialità da Chetti la Rocca tutti i geni degli anni settanta fino alle scoperte ecologiche dell'ultima mostra di Franca Pisani al museo archeologico di Capri dove qui ho tre gioielli che lo rappresentano amici Franca Pisani è un fenomeno epocale e non lo dico io lo dicono i più grandi musei del mondo dal Boburg all'Hamburger Banoff di Berlino alla Galleria degli Uffizi dove addirittura c'è un suo ritratto nella Galleria Vasariana io per l'ultima volta perché ve lo dico è dal 15 di marzo in poi ci saranno sorprese sul catalogo generale della Pisani ci saranno sorprese da tutti i punti di vista soprattutto della diffusione mondiale della sua opera ma il successo internazionale internazionale di Franca Pisani muterà in maniera radicale i suoi prezzi e dato che questo accadrà tra 15 giorni io vi do l'ultima possibilità per acquisire quattro opere storiche di Franca Pisani tre provenienti dal museo archeologico di Capri ancora ai prezzi piccoli di un tempo ma è l'ultima volta ma è l'ultima volta sappiate ne approfittare questa che vi sta capitando è un'opportunità storica è letteralmente un'opportunità storica la numero 10 è una tela 80 per 80 un passo avanti di quelle che non vedrete mai più se non a prezzi incredibili non perdetela è una magia non perdetela è una magia poi al numero 11 questa quercia marina 30 per 25 al numero 12 gli alisei subacquei 38 per 31 e al numero 13 quella fantastica girandola sottomarina 33 per 28 tre opere provenienti dal museo archeologico di Capri tre gemme amici quattro opere fondamentali di Franca Pisani che affido alla vostra attenzione per l'ultima volta a prezzi straordinariamente vecchi ma dimenticate in assoluto queste opportunità ma dimenticate per sempre queste opportunità Franca Pisani è un artista che costerà cifre che se ve le dico adesso mi date del matto come mi davate del matto quanto quando vi dicevo quanto sarebbe costato Boetti come mi davate del matto quando vi dicevo quanto sarebbero costate le ovatte di Manzoni eccetera 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 perdere 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 opere oggi è perdere la storia è perdere la storia e vi invito per vostra curiosità per vostra lezione storica chiedete i prezzi di queste quattro opere oggi poi ci rivedremo tra un mese poi ci rivedremo non tra un anno non tra due anni non tra cinque anni tra trenta giorni tocca a voi tocca a voi vi sto dando un'opportunità epocale vi sto dando un'opportunità epocale sento qualcuno che mi dice ah però a me non piace quando urlavo per farvi comprare l'ovatta di manzoni mi dicevate ah ma a me non piace quando urlavo per farvi comprare una combustione di burri mi dicevate ah ma a me non piace sempre siamo stati indietro sul mondo della gradevolezza delle opere che diventano determinanti per l'evoluzione culturale dell'umanità sempre sempre imparate questa lezione questa è un'opera non importante sublime questi tre sono tre gioielli non a caso provengono da una mostra museale amici tocca a voi amici tocca a voi ma bloccate immediatamente queste opere ma bloccate immediatamente queste opere ho di libri su Franca Pisani solo qui ne vedo una decina tutti legati a provenienze museali dal Macro a Roma all'Hamburger Banoff di Berlino tutte mostre museali importantissime storiche facciamo vedere i dettagli della 11 e della 13 con gioia ma sono una più clamorosa dell'altra poi dovete Franca Pisani studia addirittura i materiali non a caso ha avuto proprio per queste opere un premio alla carriera dal museo tessile di Torino quindi dovete poi quando le vedete dal vicino dovete toccarle dovete rendervi conto di quello che è l'uso dei materiali primari naturali tipico di Franca Pisani da urlo letteralmente da urlo letteralmente da urlo dai vi sto proponendo dei prezzi eccezionali per un artista letteralmente sublime ti dico queste opere prendile ti dico queste opere non le perdere ti dico sei di fronte guardate che non vi ho mai preso in giro vi ho sempre messo di fronte alle realtà culturali epocali e voi con le quattro opere di Franca Pisani che state leggendo in questo momento siete di fronte a quattro realtà storiche e epocali siete di fronte a quattro realtà storiche e epocali bloccatele sono la fortuna di qualsiasi collezionista ai livelli più alti sapete chi ha l'intelligenza di comprare le opere di Franca Pisani chi ha avuto l'intelligenza di comprare il cretto di burri chi ha avuto l'intelligenza di comprare il taglio di Fontana quando costava pochi milioni delle vecchie lire sono quelle persone con quella cultura con quella sensibilità con quella intelligenza che oggi scelgono e comprano le opere di Franca Pisani sono le persone che seguono il museo e non il mercato sono le persone che seguono l'intelligenza e non gli operatori di mercato questa è un'opera eterna sublime avete delle opportunità che vi verranno negate per l'eternità anche perché i prezzi di Franca Pisani saranno proibitivi la tratteranno le più grandi gallerie del mondo a prezzi assolutamente proibitivi per noi tutti e voi state esitando di fronte a delle certezze storiche io non vi dico altro tocca a voi tocca a voi non perdete le opere stravincenti allora amici stiamo per entrare nella fase finale della trasmissione che è la fase più importante perché è la fase delle decisioni è il momento nel quale si concretizzano i vostri desideri e le vostre proposte economiche quindi io voglio andare al centralino con Maria chiedo alla nostra regia questa volta di fare una rivisitazione completa di tutte le opere sul set chiamate 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 perché vi aiuto con Maria ad acquisire le opere che desiderate ai prezzi più favorevoli per voi mi raccomando chiamate 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 eccoci qui abbiamo rivisitato tutte le opere qualcuno mi chiede delle pubblicazioni le opere di Franca Pisani ve lo dico già da adesso poi le modalità ve le dirò dopo la conferenza le modalità ve le dirò dopo la conferenza del 15 ma entro la fine dell'anno uscirà il primo volume del catalogo generale dell'opera di Franca Pisani che lei vuole realizzare personalmente in vita come il catalogo generale di Morandi che infatti nessuno osa mettere in dubbio perché perché è stato redatto dall'artista in vita con l'aiuto di uno storico dell'arte e del valore di Lamberto vitali che poi ha seguito proprio fino a oltre la scomparsa dell'artista proprio la serietà di quel catalogo generale quindi Franca Pisani memore della lezione morandiana vuole realizzare una cosa similare quindi il catalogo generale verrà curato da grossi critici da grossi direttori di musei però vorrà essere lei a redigerlo personalmente e in confidenza vi devo dire che il primo volume uscirà sarà a volumi sarà a volumi e il primo volume uscirà entro il 2023 sarà pubblico il primo volume entro il 2023 quindi queste opere su vostra richiesta verranno tutte pubblicate sul primo volume del catalogo generale che Franca Pisani farà personalmente ha capito? non le cose postume affidate eccetera ai redi o cose del genere cosa fatta con assoluta serietà personalmente da Franca Pisani quattro opere da sogno non vi dico altro non vi dico altro vi dico che avete 36 minuti per fare domande è che avete 36 minuti per decidere fare le vostre proposte di pagamento fare le vostre proposte economiche su tutte le opere che ho la fortuna di potervi proporre nel corso di questa trasmissione quindi vi dico fate presto anche perché e ve l'ho detto tante volte i miei poteri di favorirvi di farvi dei prezzi di favore si esauriscono con la fine di ogni trasmissione quindi approfittate di quello che posso fare io nel corso della trasmissione vi ho già detto che vi posso aiutare su tutto su tutte le opere che vi abbiamo presentato meno che sull'opera di Angelo Accardi perché qui non posso fare come abbiamo già detto più volte anche al centralino non posso fare nemmeno 10 euro di sconto Angelo Accardi vi sto dando l'opportunità storica di acquisirlo ancora a questi prezzi ma guardate tra poche settimane tra poche settimane un quadro così al doppio del prezzo che ti ha chiesto Maria non lo comprerai non tra pochi anni tra poche settimane un'opera così ve lo ripeto perché dovete capire dovete aprire le orecchie un'opera così al doppio del prezzo che vi ha chiesto Maria non la comprerete non la comprerete questo è un momento di promozione pubblicitaria che noi stiamo facendo come abbiamo fatto per Isgro come abbiamo fatto per Bonalumi proprio alla vigilia di una rivoluzione dei prezzi dell'artista vi stiamo proponendo le opere più importanti e più famose a livello internazionale di Angelo Accardi sapendo di favorirvi ma questa è la prova approvata perché tra pochi mesi vi potrò dire vi ricordate a che prezzo vi ho proposto le opere di Angelo Accardi e non le avete e ve le siete lasciate sfuggire e ve le siete lasciate sfuggire questa sarà l'ennesima lezione che vi daremo di come funziona il mercato a livello italiano in funzione di quello che accade nel mondo questa sarà l'ennesima prova provata di come vi stiamo trattando di come vi stiamo trattando quando vi do un consiglio quando cerco in tutte le maniere di farvi comprare l'opera di un artista è perché su quell'artista c'è un interesse culturale ed economico a livello internazionale quindi inevitabilmente i prezzi di quell'artista li eviteranno e vi sto dando l'ennesima clamorosa straordinaria opportunità quella Maria quella tabula palatina è pubblicata in quattro mostre museali di Bigi amici non perdete quella gemma non perdete quella gemma di Angelo Accardi poi della Penelope di Tano Festa non parlo più vi avverto che è anche l'ultima volta che ve la faccio vedere vi avverto che è anche l'ultima volta che ve la faccio vedere perché mi metto d'accordo col proprietario e me la compro io poi vi chiederò quello che vale veramente altro che il prezzo assurdo che vi stiamo proponendo oggi altro che il prezzo assurdo che vi stiamo proponendo oggi è il momento di bloccare l'opera è il momento di bloccare l'opera assolutamente preziosa che stiamo proponendo alla vostra attenzione ma l'importanza di quest'opera non deve farvi dimenticare la bellezza dell'altra opera di Tano Festa che ho la fortuna di proporvi oggi guardate quel dittico al numero 7 quella visione del paradiso terrestre quella rievocazione michelangelisca letteralmente straordinaria nella sua interpretazione popular del genio michelangelisco guardate che meraviglia di Tano Festa guardate che quadro assolutamente straordinario vi sto proponendo di questo meraviglioso artista è del 78 sì le opere vere le opere storiche le opere sublimi di Tano le invenzioni di Tano questa è una gemma del 1978 e poi uno schifano vero non uno dei tanti quadri attribuiti a schifano un'opera vera storica sublime straordinaria vincente un'opera superiore e poi l'opera di Giuseppe Veneziano quel ritratto di Berlusconi iper vincente i ritratti caratteristici di Giuseppe Veneziano non è un'opera del tutto particolare non è un'opera assolutamente vincente non è un'opera di livello straordinario e poi vi voglio far rivedere il germanà il sassu e quel raffinato maccaghi raffinatissima l'opera di Maccaghi del 1967 trovo splendido la Ligi Sassu quella tecnica mista è veramente un qualcosa di particolare letteralmente un qualcosa di vincente di Aligi Sassu e poi voglio farvi rivedere quell'opera superiore di Mimmo Germana allora dato che mancano pochi minuti alla fine della trasmissione sono io a chiedervi dove volete che io vada dove volete che io vi porti dove volete andare io ve lo dico francamente sapete quali sono le mie convinzioni sapete quali sono le opere per le quali mi batto come un leone e quindi sapete perfettamente quali sono le opere che vi consiglio ma vi state rendendo conto che sto facendo di tutto per aiutarvi nella scelta delle opere di assoluta qualità e anche sul piano del prezzo e anche soprattutto sto cercando di mettervi nella condizione di acquisire le opere alle condizioni di prezzo più favorivoli in assoluto quindi in questi ultimi minuti di trasmissione vi dico parlatemi ditemi quali sono i vostri pensieri ditemi quali sono i vostri motivi di esitazione parliamone insieme cerchiamo di trovare un punto d'accordo proprio sui prezzi delle opere ma soprattutto ci tengo a che voi non perdiate le opere ipervincenti ma soprattutto ci tengo a che voi dovete riuscire a mettere in collezione le opere clamorosamente vincenti e dato che come vi ho annunciato tra pochi giorni con la conferenza al museo degli uffizi che Franca Pisani terrà il giorno 15 il giorno 15 il giorno 16 cambierà completamente il prezzo per le opere di Franca Pisani quindi vi dico chiamatemi chiedetemi l'opera che vi interessa farò di tutto perché voi la possiate acquisire al prezzo più favorevole in assoluto ma ricordatevi che siete di fronte a un mostro sacro che siete di fronte a uno dei più grandi artisti della contemporaneità ricordatevi che dal Boburga agli uffizi dall'Hamburger Banoff di Berlino al Macro di Roma questa artista è considerata a livello della Abramovic e i prezzi di Franca Pisani ora ancora italiani dal 15 di marzo quindi tra pochi giorni diventeranno internazionali quindi sono le ultime opportunità che stiamo dando ai nostri amici per acquisire ancora le opere storiche di Franca Pisani a un prezzo di assoluto favore per di più vi ho annunciato che il primo volume del catalogo generale dell'opera della Pisani vedrà la luce entro il 2023 quindi se voi vorrete queste opere verranno tutte pubblicate sul primo volume del catalogo generale precipitatevi precipitatevi prezzi inesistenti per le opere preziose di Franca Pisani e per di più le tre che vedete la 11 la 12 e la 13 provengono dalla mostra al museo archeologico di Capri che Franca Pisani ha tenuto quest'estate quindi tre opere che vengono da un museo amici cosa state combinando o le state perdendo al prezzo a cui comprate le opere più banali della contemporaneità non per guarda che cos'è questa gemma guarda che cos'è quest'opera guarda che cos'è questa girandola sottomarina preziosa letteralmente preziosa poi dovete sentire i materiali veramente siamo di fronte a opere vincenti letteralmente siamo di fronte ad opere clamorosamente vincenti non perdetele non perdetele per nessun motivo al mondo guarda che con il 15 di marzo cambierà tutto vabbò io ve l'ho detto cosa fate mancano pochi minuti alla fine della trasmissione è il momento di decidere è il momento di bloccare le opere è il momento di intervenire con le vostre proposte che non non vabbè non non vabbè Grazie. 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 Vi faccio il regalo dell'anno, ma non avete idea di quello che combino. L'importante è che non mi chiedete l'opera di Angelo Accardi, poi su tutte le altre opere vi faccio il regalo dell'anno. Sentiamo quali sono le vostre scelte. Sentiamo, dato che mancano pochi minuti, dovete essere veloci, quindi mi dovete dire, tra tutte le opere che vi ho fatto vedere, qual è quella che volete in casa vostra? Qual è quella sulla quale volete da me un trattamento di favore che non avete mai avuto nel corso di 12 anni di trasmissione? L'unica cosa che vi chiedo, questo trattamento di favore, non chiedetemelo per l'opera di Angelo Accardi, perché lì letteralmente non posso fare nulla. Letteralmente non posso fare niente, ma su tutte le altre opere che sono ancora sul set cercherò di mettervi nella condizione di acquisire l'opera che volete alle condizioni di prezzo più favorevoli che possiate immaginare. Ma per fare questo ho bisogno delle vostre richieste, ho bisogno che siate voi che mi chiedete, fammi il prezzo più incredibile che puoi farmi su quell'opera. E io vedrete, vi metterò nella condizione ipervincente, però le domande devono provenire da voi, però le richieste devono provenire da voi. Mi chiamano al centralino, quindi chiedo alla regia di fare ancora un giro. Se possiamo andare sull'opera di Maccari, per favore. Andiamo su quella Gemma di Maccari al numero 3, un'opera importante ad olio su tela, splendida, di grandi dimensioni, di superba qualità, del 1967, 50x70, olio su tela. Ironicamente, mino Maccari intitola quest'opera, l'esame, l'esame, sempre la vena ironica di mino Maccari. Olio su tela e non una temperina, 50x70 del 1967, prezzo inesistente. Grazie. 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 Un gioiello di Maccari. E' veramente un gioiello di Maccari. E come vi avete chiesto un prezzo particolare per questa Gemma di Maccari? Chiedetemelo per il Sassu, chiedetemelo per il Germanà, chiedetemelo per le opere di Franca Pisani, e chiedetemelo per questo splendido Berlusconi di Giuseppe Veneziano ad olio su tela, chiedetemelo per le opere di Schifano, per le opere di Tano Festa. Per la Pisani è l'ultima opportunità che avete. Per le opere di Franca Pisani, e ve lo dico, comprate un mostro sacro, comprate un artista che già è nei musei di tutto il mondo con operozio e manumizio, e che diventa una stella internazionale e io ho quattro gemme oggi a vostra disposizione di Franca Pisani. Vi dico, non perdetele. Dato che vi sto facendo su molte opere dei prezzi del tutto particolari, ricordatevi che quei prezzi del tutto particolari finiscono con la chiusura di questa trasmissione. Quindi non è che il prezzo che vi ho fatto domani, lunedì, è valido. No, il prezzo che vi ho fatto o viene confermato entro la fine di questa trasmissione, oppure è come se non ve l'avessi mai fatto. Chiaro? Questo per evitare discussioni dopo. Non fate gli ipocriti, io vi ho avvertito, il prezzo che vi sto facendo è valido nel corso della trasmissione. Quando vi saluterò tra pochi minuti, tutto quello che vi ho fatto sul piano di prezzi di sconto, di particolare, viene automaticamente cancellato. Questo sia ben chiaro perché sono quelle cose che mi fanno arrabbiare nella maniera più assoluta. Perché poi c'è sempre l'intelligentone che fa, ah ma se mi avevi fatto quel prezzo. Era un momento particolare nel corso della trasmissione. Finita la trasmissione, finito il prezzo speciale. Chiaro? Questo lo voglio sottolineare perché spesso e volentieri nascono delle polemiche in questo senso. Io per salvare la trasmissione posso fare un sacrificio personale. Ma dopo finita la trasmissione, niente, zero, come non l'avessi mai fatto. Precipitatevi, 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 precipitatevi. Sono momenti particolari, se volete un prezzo particolare ho ancora sette minuti di tempo per proporlo. Ho ancora sette minuti di tempo per proporlo e vi ho avvertito che vi posso fare dei prezzi particolari su tutte le opere ancora a vostra disposizione, meno che per l'Angelo Accardi. Meno che per l'Angelo Accardi. Grazie. 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 Mi raccomando, lo ripeto, i prezzi che vi sto facendo. Non sono più validi tra sette minuti, quando vi saluterò. Questo sia ben chiaro. Ci tengo da morire. Ci tengo da morire. Amici, vi ho fatto vedere delle opere qualitativamente fuori della norma, vi ho messo di fronte a delle opportunità di investimento storico e di investimento culturale straordinari. Vi ho fatto vedere un'opera di un'importanza superiore dell'artista che oggi tutti i più grandi mercanti internazionali si contendono per avere un contratto di esclusiva con Angelo Accardi. Vi sto facendo vedere una delle opere più complete, più importanti, più raffinate di Angelo Accardi con quella citazione dell'opera di Zhang Xiogang, il pittore acclamato per i suoi mitici ritratti ispirati alla rivoluzione culturale cinese. Sono uno degli artisti più costosi del mondo e ho cercato poi di spiegarvi il perché, come questo assemblamento di elementi diversi nello stesso quadro caratterizzano proprio il significato storico dell'opera di Angelo Accardi. Vi sto dando un mostro sacro come mostro sacro è Franca Pisani. E vi sto dando l'ultima opportunità che avete di acquisire un'opera di Angelo Accardi a un prezzo del genere. Mi raccomando non esitate un istante, mi raccomando non esitate un secondo. Vi sto dando delle opportunità epocali, sappiatene approfittare, sappiatene letteralmente approfittare. Dai, l'ultima chance, chi ne approfitta? Dai, l'ultima possibilità, chi ne approfitta? Il tempo scorre, queste opere poi non le ritrovate perché sapete perfettamente che poi vengono comprate dai rivenditori, dai mercanti e le ritrovate nelle grandi fiere, nelle grandi mostre a prezzi completamente diversi. A prezzi totalmente diversi, quindi mi raccomando a voi, quindi letteralmente mi raccomando a voi. Tocca a voi non perdere le opere più clamorose. Io ho cercato di indicarvi le opere più speculative e le opere che hanno la certezza di restare protagoniste nella storia del mercato e nella storia dell'arte. Quindi avete solamente una straordinaria possibilità di scelta, una clamorosa possibilità di scelta, approfittatene. Approfittatene. Vi stiamo facendo dei prezzi veramente particolari. Quindi non lasciatevi sfuggire le opere vincenti. Poi se volete, come sempre, io sono a vostra disposizione per darvi un consiglio. Questo lo sapete e approfittatene. Su Penelope, letteralmente non vi dico più nulla. Vi sto dando l'opportunità storica più clamorosa. Vi sto dando l'opportunità più incredibile. Siamo proprio agli ultimi istanti di trasmissione. Amici, vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi faccio i più vivi complimenti per le opere che avete saputo bloccare. e mi raccomando, continuate a seguirci, perché questa sera... Chi ci sono? Ci sarò di nuovo io? Sì? Sei sicura? Allora, questa sera ci sarò di nuovo io alle ore 21. Io giro 21. Quindi... Sì, sì. Alle 21 esatte? O 21 e 30? Sì, sì. 21? 21, sì. 21, sì, sì. E mi raccomando anche per le trasmissioni di domani, domani come tutte le domeniche, cominceremo domani mattina alle 10. Grazie per la vostra attenzione e con tutto il cuore, alla prossima. Grazie per la vostra attenzione e con tutto il cuore. Voi, comodamente seduti nel...